...degli apparecchi, via, è un'allarme, decollo su allarme, lo schembro, non sono ammessi? Siamo in aria. Ora non si commenta più. Ben colpo, ben colpo! ...degli apparecchi, la notte... ...fascia un altro giro per il foco di grazia. ...fascia via quello di mezzo. ...foco a volta! a battuto ha battuto il corpo rosso 2 2 è proprio davanti sono le 2 o le 6 fuoco a balutare ho preso anche l'altro qui sta in cosa in assoluto io ho preso sono stato colpito vabbiamo di zero dietro hai visto quanti sono 5 sono 5 ore 6 dobbiamo separare sono a sinistra io vado a destra da un liveo 3 ore 6 se non sbagliano tra le nuvole dai non facciamoli arrivare a casa non facciamoli tu stai lì ma adesso la faccio fuori mi ha sentito me vai i 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 Grazie.